È in gioco, pensate, una finale del campionato del mondo. Ampione! Com'è questo mondo del cinema? Il colpo di testa è pieno di tiro! E' un roll di schilla! Ha scritto un copione che è una favola, una bomba. E entra nella storia del cinema! Volete fare gli sceneggiatori, ma non sapete fare gli spettatori. E' bellissimo fare gli spettatori, appassionarsi alle persone. Sono degli assassini, non hanno ammazzato loro. Sono immagini che non avremmo mai voluto commentare. Non mi lasciate sola, per favore. Io devo lavorare, devo fare l'amore, ho il diritto di essere felice! Te non sei solo. Forse c'era un destino, un disegno. Tutto ci portava qui. Volete scoprire se il trailer è entrato nella nostra classifica? Visitate il link nell'infobox e commentate sotto al video. Ricordatevi inoltre di cercare Screen Week e di iscrivervi a tutti i nostri social. YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. Per ogni notizia sul cinema, sulle serie TV, per il gossip dell'ultima ora e le recensioni delle ultime uscite, non perdetevi il nostro blog, blog.screenweek.it. Volete inoltre rimanere connessi anche dal vostro smartphone Apple o Android? Scaricate le nostre app Screen Week e Screen Week TV. Sono gratuite. Ciao!